Signori, benvenuti in un nuovo video e in una nuova food experience, alle mie spalle Blackout, un'amburgeria di quelle che sembra essere molto interessante. Andiamo! Questo è l'interno. Le bevande sono in free refill. Spettacolare! Il pane, ragazzi, è qualcosa di strepitoso. La carne è cotta bene ed è un bel panino. Proviamolo. Guardate che spettacolo! È molto buono. L'avrei usato di più con la salsa. La cottura della carne è perfetta. Super succosa. Patatine. Ovviamente solo maionese. Sono proprio buone. Super croccanti fuori. Cettro morbide. Ragazzi, è talmente buono che ne ho preso un altro. Questo si chiama Walker, Texas. Vaca, ragazzi, che buono! Questo è completamente diverso, molto interessante. Tendente al dolce. Ragazzi, conclusioni a caldo. Buono, veloce, gustoso. Costa il giusto. Io gli do un bel 9 su 10. Andate a provarlo perché ne vale davvero la pena. Ciao!